Salve ragazzi, io sono Diego. Oggi continuiamo con un esercizio sugli shapes minori. La tonalità è quella di sol minore e lo ascolterete prima con la tecnica del plettro e poi del legato. Buon divertimento e noi ci vediamo alla prossima. Per restare sempre informati sulle mie lezioni iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanella. Ciao da Diego. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.